Grazie. Il Falou Ivano fu soltanto un poeta, un animatore, un grande pulgo, un autore della televisione, un imprenditore di successo, un politico, un attivista politico, pensate che quante spazzettature ha la figura biografica di il Falou Ivano. Sono arrivato appiccato la notte, il 10 novembre del 1995, per aver difeso il diritto sacrosanto alla salute e alla vita di 30 milioni di esseri umani che vivono nella verità del liceo. Uomo di pace, di cultura e di giustizia, io vorrei presentare questa persona che è subito. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.